Si va a formare l'allineamento sulla retta delle tribune e parte con cautela Remskronos che retrocede in seconda fila, c'è l'errore di Rubina Griff in 100 metri Ramses che sfida il comando Remskronos che dopo partenza prudente approva manovra di sfondamento rimane di fuori Rukoe a Spritz con Remskronos che deve prendere con calma la curva superare Rukoe a Spritz e presentarsi sui primi l'anticipo di Roventa che va con decisione su Ramses che gli dà strada arriva Remskronos adesso con Richard ZS che va a tarsi in corda Remskronos che insiste, Roventa decide di correre davanti Ramses che rimane secondo sullo strappo notevole della testa dopo il 14 e mezzo ne esce un 15 e 1, 29 i primi 400 metri Remskronos in spinta, Roventa che corre davanti e Remskronos che deve adeguarsi dietro i due Ramses ancora Richard ZS che sbaglia e si elimina sulla seconda curva poi gli altri ad inseguire ritmo che non accenna a calare, 45 e due linee per i 600 iniziali Roventa che la mette sul ritmo cercando di mettere in difficoltà Remskronos che comunque sembra ancora bene in mano Ferdinando Pisacana e passaggio, Ramses dietro i due e poi le sacche di fumo che cerca di serrare sotto come Ruco Esprit ancora un 15 e 3, 800 in un minuto appena abbondante per Roventa che prova la fuga a traguardo lontano penultima curva non varia praticamente numero 7 Richard ZS squalificato Roventa che viene stappata al chilometro sotto l'1,16 Remskronos che prova a riproporsi dietro i due Ramses che cerca di mantenere il contatto poi ancora gli altri metà della retta opposta non varia assolutamente nulla con Ruco Esprit che cerca di superare le sacche di fumo per la quarta posizione frazione in 15 e 6 questa la più lenta della corsa l'arrivo sicuramente non sarà velocissimo con Roventa che si difende a Remskronos Ramses richiesto per mantenere il contatto poi Ruco Esprit metà dell'ultima curva ancora Remskronos alla caccia di Roventa Roventa con Ramses dietro i due Ramses Remskronos che prova all'ultimo fondo su Roventa che in leggero calo Remskronos che tende a passare i cento finali Remskronos che è passata nel finale e va a vincere ancora questa corsa nonostante l'intero percorso esterno su Roventa mentre per il terzo Ramses respinge il grande cupolo di Rubinia Griff 1,17,5 con arrivo lento per Ramses Remskronos, Ferinando Pisacane